Nelle live del bolognese Sempre su un gioco molto bello Si passa da un gioco bellissimo A un gioco altrettanto bellissimo Scherzo Bene Partita rapida Cosa è successo? Intanto che aspettiamo Ah, Eugene Crab Corea Aspetta che alzo un po' il volume Della live E abbasso un po' il volume Del gioco Non ti sto più sentendo Aiuto Deve passare il gioco E' già basso il volume del gioco In realtà Provo a parlarmi No, tu sei Forse sei giusto Puoi alzarti un pochettino magari Boh, non lo so Ok, molto meglio Sarai chicato per afflato Madonna Madonna quanto lagga Vuoi che esca? No, senti C'è Lucio che spara Vedo le munizioni di Lucio Che rimangono sullo schermo Immobili Bellissimo C'è Chi era? Facciamo così Ah, ok Tempismo perfetto direi Eugene Oh, c'è la mappa Prendi Prendi Guido Va bene Così provi il ballo Anch'io provo il ballo Se è quella lì Vedrai che è quella Ma io non ho il ballo di Guido Però Aspetta Ah no Ho quello di Mercy Io lo Lo ho comprato Il ballo di Guido Così Tanto per No, io ho il suo Infatti non è quella la mappa Troia puttana Vabbè, cambia Allora fammi cambiare No Ah no Abbiamo già Un 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 cecchino E allora serve un tank Sì Vai Mr. Gas Oh sì Mr. Gas Incoming Pipiri 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 Uh ah Tinculo Maiale Vieni qua Allagato Perché Gli ero in faccia E non mi ha colpito Proprio scemo O sfigato Non lo so Addio May Oh no c'è May I need vita Ci sono 95 healer E nessuno cura Sì è vero No in realtà Ora ce n'è solo uno No Com'è che si chiama C'è coso C'è 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 il gigione C'è il gigione Che è scemo Perché lo sto menando duro E non si volta a menarmi Ciao gigione Eh vabbè Si è buttato giù Arrivederci Ma io probabilmente sto laggando un po' Perdo frame Perché Sto scaricando il nuovo gioco di South Park Coraggioso da parte tua No Non è che lo scarico mentre sono in live È che io l'ho messo in scarica stamattina alle 9 Non ha ancora finito Capito Ah Ci deve essere un problema con i server di Steam Comunque Perché sono 30 giga Non ci dovrebbe Non ci dovrebbe mettere così tanto Cioè Tre ore A dir tanto Tre ore A dir giusto un'oretta A dir poco 20 minuti Non lo so perché Vuoi chiamare Bob? Eh Arrivederci Perché loro sono un po' banana comunque Ciao dottore Aiuto Muoio Fratelli Niente Fratelli e sorelle Bentornati E niente Io sono il capitano E nessuno E nessuno mi viene Da retta Oh cazzo Ma sono due tank Eh Se ne sono accorti Eh non l'avevo Non cazzo Troia puttang Qui si riguarda Cumbo si dice Il cazzo Catafrega Credo che ci sia Una Moira Orfei Volante Sì la vedo Ecco dovevi darlo a me Lo simulatore Ma sei scema in culo Pepe 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 La canzoncina La canzoncina No Ok Dottore E dove vai Dottore Africa United Chi è Dottore Africa United Dottore E tutti quelli Che voglio chiamare Africa United E qualcuno Che viene all'Africa Che domande fai Anche te Scusami Scusami Non lo sapevo No non devi Saperlo A seconda Mi piace Aiaiaiaiaiaiaiaiai Winston è palesemente Di Manhattan Proprio Una scimmia Che non è Un modo in cui Parla Non so Finire di Mister Gus Sì Mister Gus Mister Gus Di Manhattan Secco Proprio Oh madonna del carmelo Però sono l'unica tank io Prondo Non c'ho vita e vi butto A pesce A moira A dottore Dottore E niente Quella che ha fatto Non è vero Prima ho fatto una partita su smite In cui usavo Come si chiama Non Afrodite Quell'altra Artemide Ero adi carry Conquestatore E support Tutti insieme Ero l'unica che faceva qualcosa Di tutta la squadra Minchia Infatti Vabbara Oh no Junkrat Grande mago Genji Complimenti Abbiamo tutti No non è vero Non tutti Scherzavo E' Bob adesso Bob No Bob Boob 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 A parte che in originale Mr. Gas E' tipo E' tipo Nero Ma nero vero Quindi E' difficile capire Da quale parte Dell'america Può venire un nero Perché appunto Ha la voce da nero Puoi fare Il ragionamento Super razzista Tipo Vien da Harlem Grazie Fa culo Come dire Giudeo E da dove viene Dal ghetto Ok Va bene Papparabà E giù Mazzate Salve Dotto Tu grande mago Mi raccomando Niente La gente è rincoglionita In questa partita Profittiamo Ne bullizziamo Di finché si può Vai così Ora che l'hai detto Crederemo Non è che prima Abbiamo vinto Con tanta facilità No effettivamente no Però abbiamo comunque vinto Ho fatto un po' di pratica Con Con Messico e nuvole Come si chiama Messico e nuvole Sì Il lato sporco Dell'America Sombra Esatto Sembro razzista Sembro razzista Probabilmente lo sono Anche un pochettino Però tutte queste Sono citazioni Che se voi Non le conoscete È colpa vostra Perché sono Culturali Sono cariche Sono piene Sono storiche Sono classiche Cosa vuol dire Che non sono Della mia generazione Ma della generazione Di miei genitori Oh no c'è Sombra Adesso te ne rendi No Girobo Buona buia Eh sì Buona Ti ho fottuto la kill Tanto per cambiare Ma porca troia Detta come va detta Bene Ora che è arrivata Sombra Ha metto anche io Sombra Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant ombra non prende le cure ne prende io ora non l'altra ma guarda quanto è incazzata o mi è stata proprio attaccata al culo voleva proprio un campione delle mie feci voleva cioè ma adesso abbiamo fatto un fight di 20 minuti me ne sono andata mi giro era ancora lì che mi seguiva col phone anzi con l'aspirapolvere devo bere un po c'ho sete senti ma quante quanti medikit puoi hackerare con sombra contemporaneamente credo uno solo credo non sono mai tu io ne burundi sei scemo in culo vabbè sei scemo in culo più che altro almeno prima dell'aggiornamento solo uno vabbè abbiamo vinto nice piacerebbe ha cercato di fare la comba la la combo per shottare intanto che tu fai roba io prendo del glu glu che fa che roba faccio quello che ti pare va bene racconta una barzelletta io non so raccontare barzelletta un umorismo di merda l'unica cosa che so fare è fare dei ritti atomici ma non penso che sia il contenuto che vuoi vuoi dare io non vorrei dire però la parte è iniziata e niente sono da solo va bene gualla 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 ciao il pianeta forne palla cosa? è il momento di fare l'ealer ma chi io? no io io ho deciso che userò solo i personaggi che il gioco sceglie per me stasera poi vediamo va bene possiamo fare un eroe misterioso allora ah no però dopo cammio ogni volta che schiatti in realtà va bene uguale però così non mi dispiace come meccanica tanto il gioco deve selezionare cazzi a caso e io scelgo quello che dice lui quando cominci la partita sì sì che bello Riper mi ha fatto il culo anche a me quell'altra la guarda lì che buia buru oh madonna tofu allora ne stavamo tenendo in scacco tre e noi eravamo in due è arrivato il quinto e ci hanno inculato esatto però io non sono brava a stare in volo con qua con questa qui con Optimus Prime della mutua Optimus Prime della mutua ma l'hai vista che bella che è sta skin sì dai non puoi schiattare di nuovo Riper forca tra vai aia aia il ripo il ripo il ripo ma io voglio guarda madonna di quella madonna del buio buio non è niente schiattato fortissimo mentre faceva la ultra ma chi ehm ripo ah io che ho perso tutti sono qualche pago l'ho proprio fatta di ignoranza stavo ammazzando qualcuno che non so chi fosse a un certo punto si è messa in mezzo a Mercy porca puttana ho sparato la ulti in culo mentre scappava aia e sono morta non c'è ulti più brutta nella storia di Overwatch no c'è appena stata le patate le patate con in mezzo tua mamma orco dio non volevo cambiare con la pistolina aiaiaiaiaiaiaia niente ho finito il carburante buia fratelli e sorelle bentornati nelle live del te lo metto nel culo ma non eri contro le cose strane su switch l'altra volta avevamo parlato del del fatto che tu fossi contraria ai for come cavoli chiamati l'altra volta no alle cose tutte su switch insomma allora io mica sto mostrando tette e culi in modo non quello anche se sotto sono nuda e niente è che non si può dire te lo metto nel culo adesso di capire poi no non ho detto questo perché è un mo perché è omofobo come discorso va bene sì assolutamente sono per il sesso libero se c'è come si dice chi cazzo è che mi spara ma fanculo uno che sia tofu mi spara il tofu mi ha soggiorno tra topo e soggiorno non so quale sia meglio topi a mani basse proprio va bene che poi io allora discorsi seri tra virgolette se esistono già i siti dove fai dove puoi fare il porno vero perché devi fare una versione sdozza del porno da un'altra parte per farti pubblicità no perché si è già famoso per il porno vero perché devi fare del porno se lo sei allora no se lo sei già allora è un conto non lo so è come la gente che posta porno su youtube apposta di support nab su support nab io porno chi cazzo lo usa diciamo le cose come stanno ma gli stai ancora è stato acquistato da porna ma il sito esiste ancora che poi la questione che cazzo vuol dire porno vero porno finto e vuol dire giovannona coscia lunga vuol dire porno finto vieni qui vieni qui vieni qui vieni qui vieni niente l'ho cercato nuovo metodo da super pro per come si usa orisa quando si chiama farà farà risa farà farà come farà farà come farà farà come farà farà come farà o come farà come farà ed è la play of the game signori ho fatto è sicuro che ho fatto sei chi il 5 che sono ste cornette io che sbatto contro le cose boom serie di 10 oh ho sbagliato cazzo vado via thank you ma perché diva va lì perché c'è gente salve è stata molto particolare con cosa oddio l'altra verso c'era con me c'era con me c'era come tantissimo perché l'ho uccisa prima aiuto e niente ci sta l'avrei fatto anche io e l'hai rubata in malo proprio a un modo proprio duro si esatto se lei stava volando via l'hai resa in ragdoll ma non un ragdoll che è schizzata via era un ragdoll un ragdoll tutto tutto teso era fatto così comunque non sono l'unica persona che ci fa soldato con ripper sai ieri stavo parlando con una persona che ha conosciuto sempre su dove ho conosciuto te e praticamente abbiamo giocato a overwatch e a una certa mi è uscita tipo un momento da simp per ripper ho detto mamma mia quanto fregno me lo farei volentieri e lui ha detto sì ma dovresti litigartelo con soldato vabbè ragazzi se voi siete ignoranti non è colpa mia senti non è vero e io c'ho il miglior gay rada del paese non voglio sentire cazzate non è vero non è vero cosa no no sotto quale certificazione esperienza personale il cuore sa quello che quello che vuole e mostra sempre la verità il tuo cuore vuole i gay? sì i gay donna con le lesbiche funziona molto di più che con gli uomini ma anche con gli uomini me ne sono abbastanza brava sì 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 dico tutti così che cazzo stai dicendo? che cazzo stai dicendo? dico tutti quelli non lo so che partita di merda ma non è vero ma come non è vero? l'ho fatta io la play of the game possiamo dire che è stata una forza di merda non è vero gioco me l'hai rubata mi sento tradita nell'anima nerf a questo vabbè è overwatch che ti aspetti eh non mi fa parlare non mi fa salute grazie ma quindi mi tradisci con un altro uomo? cosa? mi tradisci con un altro uomo su overwatch? no tu l'hai detto eh non è che non ti sto tradendo adesso faccio anche io quella cosa dell'usare un personaggio quello che consiglia overwatch duolingo mi sta minacciando perché non sto più facendo le lezioni smetti la duolingo sono tre giorni che mi minacci non le voglio fare basta mi raccomando non devi installare l'app no 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 adesso lo faccio no però è divertente ogni da no non mi sbatti hello hello it's me duolingo liberazione l'ho solta sai chi usa sai chi uso duolingo? chi usa duolingo? gli anziani tu sei anziani? no si va bene no luciano no mi fa cacà ah io devo usare l'aria allora è vero oh soleio e luciano madonna io non la so usare che bello però amo questa skin è troppo carina è quella del cazzo? cos'è quella del cazzo? è quella di natale è letteralmente la sua skin miti no non la mitica sì la mitica mi sa però con colori diversi non l'avevo mai vista comunque a parte le ciabatte che sono meravigliose quello che hai in mano sembra un accendino sembra l'accendino l'accendino di guilty gear sembra parli di cose che io non capisco mi dispiace che bello abbiamo un reaper ti farò ti farò provare quel gioco meraviglioso va bene stavo anche pensando a una serie di film da farti vedere a dire il vero prima o poi ok non si sfugge c'è una Widowmaker ho visto c'è anche Moira Orfei guarda che vuole fare i capricci e c'hanno anche Mercy ahia sì ho visto eh buia anzi sai visto che c'è questa mappa io uso Widowmaker hangonna dai i fratelli e sorelle tanto abbiamo due healer eh però fallisci la challenge se fai così eh vabbè però questa mappa alla putt' guarda quello è il punto ah ecco perché non mi curavo perché avevo l'abilità shift attiva lì della corsa eh non lo uso mai Luciano che cazzo pretendi ci sta no cioè è talmente stronzo che non ci sta però vedona la merce eh quanta gente eh quanta già sto per morire sto per morire sono morta niente stavo cercando di aiutare ma difficile anche la nostra May non sta cambia c'è Lucio Widowmaker bene posso tornare no scherzi ma chi è la Clinton sì assolutamente yeah no c'è mercy è qua lo sto menando no non merci non merci Widowmaker ha cambiato ah illusio ah ma Pilo lo scopatore di cuscino trolla segnala segnala May perché sta ferma sta ferma e spara a vuoto e usa le abilità cazzo no è praticamente afk aiuto ah vedo sto sparando al muro ci sta un giappo cinese arrapato che mi vuole inchiappettare sta a vedere che gay pure lui secondo le vostre teorie del Kaiser Guglielmo secondo chi è? sono giapponesi potrebbe anche darsi dici Genji? eh sì voi o io lo scippo commercio un pochetto tu dici che non so Giappone Germania va d'accordo? non lo so perché hanno quella ci sono tutte quelle animazioni sono carine semplicemente li vedo bene però non poi c'era anche il gioco del quello di di San Valentino ma dell'anno scorso ma tutte le ragazze di Overwatch se sono carine sono sono lesbiche ci sono cazze purtroppo allora perché non posso avere questa teoria ma al contrario no 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 non è che non puoi è che io sono contraria a questa cosa cioè ehm Tracer non è lesbica mai nell'universo conosciuto del cazzo in culo Mercy non lo è Widowmaker non lo è non voglio sentire storie infatti però è invece sì e allora vabbè siete scemiti però invece sì cioè mica l'ho deciso io la lord dei personaggi eh scusa non è non è lesbica non è lesbica infatti no però no non è vero sì no tutti i personaggi che sono scopabili dai maschietti la Blizzard dice eh ma no non puoi è lesbica e involontariamente cosa fanno gli fanno arrapare ancora di più non so chi sare tanto abbiamo perso che te ne frega torno con Hillary Clinton sì ma chi è Hillary è di Soleil ma fancù eh non ci ho pensato ringrazio che non abbiamo giocato mai a a lol e a te negli anni d'oro ah 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 cioè ogni personaggio aveva un soprannome bruttissimo ma dove è finita la mia torretta e mi sa che se scompari lei se ne va io non sono scomposto se cambia i pg intendo eh no me l'ho messa adesso allora non lo so oh abbiamo vinto che culo stiamo perdendo disse anzi abbiamo perso disse guarda che abbiamo vinto solo grazie alla ulti di madre russia è vero madre russia nella russa sovietica tostapane fa fuoto cosa? è una line sua? no per fortuna ah ok sarebbe un cioè Putin avrebbe fatto avrebbe bombardato la blizzard se gli avessero fatto dire una roba del genere te lo posso mettere per iscritto non credo ce ne sia bisogno è tipo un meme su come si muoveva il KGB sarebbe? il KKK la polizia segreta russa ok tipo l'FBI ma russo oh la madonna si succede il mio gioco sta esplodendo il mio pc ok sono da sola sono da sola contro 21 ok aiutami ok c'era Ripper non è da sola ma c'è sei arrivato arrivato prima te anche lui ah ok ahia il suo gusto di limone non me la ricordo più me la devo ripassare dici che mi danno il copyright strike se metto sullo spot di gran sole oh dio l'ansolene oh nice ci piace cosa è successo? l'altra di Ripper alla putt ok si pensavo fosse nostro poi noi non ce l'abbiamo cosa? ehm Junkrat ah magari il Janko Junkie eh niente moro moro e vabbè aiuto ce l'ha con me quel coso Mayday ritirata ai 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 eh vabbè ma vaffanculo attaccato l'obiettivo non ha kill salve e nemmeno tanto hailing aiuto corri fatti i cazzi tuoi per dio si ah no sono morto sembrava il grand il grand prix di monte carlo tra un po' il gran sole vai soleire evoca la lancia di Gwyn fatto proprio cacare sta partita madonna non devo usare la soleire ma non è un mitra è un cecchino lei è un mezzo cecchino devi usarla come come hash devi sta dietro non in prima linea ok aiuto muoio aiuto sono morto aiuto muoio aiuto sono morto oh di nuovo minchia bravo perché non te lo sposi voglio dire no grazie il vecchietto arrapato cadaverico col cazzo morto letteralmente oh da questo punto è meglio riper che è morto o è meglio genji che c'era il robotico o forse è tutto rifer perché è un debole per rifer o forse è tutto robotico è l'unica cosa che ha ancora di reale è il cazzo e non gli tira perché è mezzo morto anche se fosse robotico dai tanto vale scusi masturbarsi con un dildo appunto dici che vibra che cazzo che vibra secondo me sì devo cambiare che cazzo uso basta lasci anzi sai cosa fanculo aprendo io ci ho ripensato mi spiace che hai piato chi pigli non ci posso credere la odio no dicevo ho ripensato a genji col cazzo che vibra vantaggi perso no oh la la come era la torretta così chi è andato là in fondo ah zaria che cazzo ci fai lì ah qui dietro vedi colpi per il cura beh dove potrei mettere il cura se lo metto qui cura no avrà giocato così ah non lo so io seguo ripero la ulti palese dietro 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 qualcuno non so chi infatti aveva la ulti e niente bene ciao 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 Nice Ahia Uh uh Eh dai ero a mezz'aria Fottiti non è vero Eh vabbè Tu com'è che ogni volta che ti vedo giocare C'hai due o trecento skin nuove Quanto cazzo sciocci Ma guarda che ero so Questa è del passo di qualche Mese fa Anno scorso Sì Sono quasi tutte prese con le monete bianche Quelle diverse almeno Ma ce ne sono così tante L'unica che ho preso con i soldi Perché di me delle Questa sono tipo tre o quattro skin Ma Io Guardo nelle Quelle disponibili per me Non ci sono molte di quelle che hai tu Acquistabili Perché alcune sono di quelle che vengono per un certo periodo Poi non ci sono più Cioè non limitate Però limitate a un certo periodo Esatto Limitate però quasi Però non Tipo quella del gufo che anche tu mi pare O no Forse Mi pare di sì Sì quella Quella di blu Credo Sì che c'è la mascherina da porno italiano Ah sì 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 Ok sì Eh quella sarebbe limitata Meno male perché fa cacare la minchia Ma mi piace Ma è una stronzissima recolor con due poligoni in più Appunto Eh va bene È diversa dalla Dalla basica ma Penso che a me ci sta Eh però se te la dovessi comprare costerebbe 25 euro No Comprare con i soldi no Infatti io non la compro con i soldi Suka Infatti quella l'ho comprata con le monete di over Già con le monete con le bianche Io avrei voluto prendere quelle di Halloween E qualcuna di quelle Ti faccio vedere io Soleir Niente si è messo la ultima No io l'unica che ho preso I soldi di Mercy E quella di Natale E onestamente Non lo rimpiango Per quanto si è lanciato i 20 euro Aia porca puttana E niente Aiuto moro Che gioco di merda Abbastanza Mi piacciono quelle a tema greca Greche Sì Non tutte però Procede a ridere senza ridere Effettivamente nell'animazione Beh si può ridere a bocca chiusa Sì ma non facendo Ma lì è colpa del doppiaggio Del doppiatore italiano Sì vero Però Però Lasciami criticare per favore È l'unica cosa che mi mantiene D'accordo Si può anche dire che ha la faccia da umano Quando non dovrebbe averla Che dovrebbe avere una faccia da teschio Ma E poi la maschera Che però non si toglie neanche quando va a far la doccia Anna Oddio devo usare Genji Botanica Civetta Corsara Questa qual è? Ah Anna giovane No Metto questa Ahoy Bucaniere Non ne sarei così sicuro Hai la mia spada E il mio martello E la mia pazza Che vibra Tra l'altro A me fa troppo ridere Che Jormungun Qua Questo qua Il nano Jormungun Com'è che si chiama? Il nano ottomano Come si chiama? Torbjorn Torbjorn L'ho confuso con un altro gioco Perché è norvegese Smite Jormungun Puoi usare il martello Ma non serve a niente Cioè Magari fa anche danno Però l'attacco bilia E il martello Sì ok Però non ha senso Tanto serve Cioè La torretta Te la rompono subito Ehm Il pugno Lo puoi dare anche Se hai in mano Il fucile E tiri fuori Il martello Cos'è? Ho allargato Mi sono girato Dall'altra parte Non ho capito E ovviamente Orisa mi fotte le kill Palese Cioè Ovviamente Figurati Cioè una volta che faccio una kill decente con Genji Che non so Letteralmente usare Orisa mi fotte le kill Mi piace questo gioco Oh ma devi farti i cazzi i tuoi Nano Burundi Ma comunque quella modalità In cui potevi usare lo stesso eroe due volte È stata tipo Usata un Cioè l'hanno messa un giorno e basta Sì perché Too much troll Oppure piace troppo Non lo so Ci avranno le loro ragioni Non sono in grado di gestire un'azienda Non ti so dire Ehm Ehm Disse Genji Schiattando Ehm Niente non ci ho colto una volta No io non ci riesco Devo cambiare Userò un fratello Non è vero Non userò un fratello Userò un rifer Madonna quanto va mostro skin No No Vaffanculo Vaffanculo Vedo 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 Non ci credo Non ci credo Minchia Uno è Penta No Penta che no Quattro Ora sì Ma non è la sua Fortunatamente Beh dai Che bella L'ero in culo E non sono riuscito a addormentarla L'ero proprio in culo Cioè Ma è fatto bene Sto personaggio Sto gioco Ma porca Vabbè ma che gioco di merda Però veramente Muoio 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 Mi brucia il culo Mi brucia il culo Mi brucia il culo Mi brucia il culeto Non posso usare Quell'elefante Mi fa troppo male il culo Ho mangiato troppo colore Eh ragazzi Ragazzi Se non avessi la ulti Io cambierai Mettere Divo Aspetta a spararla Che ti inculo con la ulti Ti sparo un bel seringone Sul chiappone Dimmi quando Ce l'ho No però aspetta che c'è Bob Sennò mi impura Non so dove cazzo sei Quindi Bene Andiamo insieme allora Where are you? Eh sto uscendo ora dalla base 15 secondi 15 secondi Eh lo so Ma ti fai i cazzi tuori Eh niente Vai 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 Non c'è nessuno letteralmente Oh che culo Ok bene Cioè perché culo è stato Boh non lo so Io non strillo come una donnetta E niente Ma è troppo bella la skin Con le rapette addosso Con le? Le rapette È quella di Tor È di Di Roadhog Sì Ce l'ho anch'io Lo skin dell'evento di pace Pace ma la tua pace Quello che è Ma siete cretini in culo Me la dai Quando vuoi Ora non ti ferma più nessuno Staccati Odo Oh Oh la putt Sto schiattando Sto schiattando Sto schiattando Ok Nice A post Dammela Dammela E lei rispose Pigliala Del bolognese Scusate Hai sentito No Va bene Oddio c'è la commedia Diva aiuto Ma sei cretino In culo Basta Aia È l'ora di usare cirellino No 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 L'ho sprecata Però mi ha ucciso Io ci posso anche provare Ma Grazie Aia Non è stata una grande idea In realtà Vabbè però mi hai difeso Da non so cosa Qualcuno che stava cercando Di picchiarmi Credo fosse Zeniatta Sì Che sta continuando Calcio Chiunque Niente Mamma Sono famosa Salve La volta in cui Addio Potevo Inforchettarla E niente Volevo fare tipo sai Looney Tunes Che si nasconde Perfettamente dietro Te lo dico io Tra poco stacco Perché se domani Voglio svegliarmi È meglio se Vado a nanna Ti va di fare Una partita Pochi Rocky Remaster Tra l'allero Che cos'è È una cosa bella Allora Quanto dura Nelle nostre mani 15 anni Ma è giusto Allora no È giusto Per fare un partitino Veloce Allora È un Shoot'em up Tipo arcade Solo che Non c'è l'astronave C'è la donnina Che cammina E spara le cose Ok Vabbè dai Usciamo Ciao Potete Signori Grazie di essere passati Noi ci vediamo Domani Sera Se tutto va bene Fate i bravi Buonanotte Ci vediamo domani Buonanotte Peace